Bentornati al canale Amo gli italiani, con le ultime novità di oggi. Le foto di Mara veniranno sconvolto il pubblico italiano, le sue condizioni fanno impressione, è ridotta malissimo. L'artefice di tutto sarebbe proprio suo marito, Nicola Carraro, che potrebbe finire nei guai. Il torto è stato troppo grande ed è improbabile che Mara venirgli e la faccia passare liscia. Conduttrice, opinionista ed ex modella, la zia Mara si è sempre dimostrata una donna forte, che non si fa a mettere facilmente i piedi in testa. Ecco perché il pubblico è convinto che anche questa volta farà valere le sue ragioni. Intanto lo scatto che la vete protagonista in condizioni disastrose sta facendo il giro del web ed è finito al centro dei maggiori giornali di gossip. Ecco cosa è accaduto.Mara venirgli in condizioni disastrose.Mara venir è un'artista poliedrica e carismatica, che si è distinta fin da giovanissima per il suo talento. Ha debuttato nel mondo cinematografico prendendo parte a piccole pellicole, per poi brillare sul grande e sul piccolo schermo. Sempre solare ed impeccabile, le sono stati affidati diversi programmi, tra cui Domenica in. Il suo modo di condurre funge da calamita per i telespettatori, che seguono Mara venir con orgoglio e passione in qualsiasi avventura televisiva si cementi. Insomma, con lei il successo e gli share sono assicurati.Per quanto riguarda la vita privata, Mara ha due figli, Elisabetta e Paolo, ed è sposata con Nicola Carraro. Nonostante i due siano molto affiatati, questa volta lui potrebbe aver fatto il passo più lungo della gamba. Ma cosa è successo? Nicola ha simpaticamente colto l'occasione di un momento di intimità per mostrare la vera Mara al pubblico. Tanti i commenti sotto lo scatto, che ha reso Mara protagonista di uno scandalo. In realtà c'è stato tanto fermento per nulla, la foto risale all'estate scorsa e mostra la conduttrice impegnata nelle faccende di casa, in particolare mentre sistema il terrazzo. Mara all'epoca era appena tornata da una rilassante vacanza a Santo Domingo e, ritrovatasi nel caldo di Roma, ha deciso di dare una sistemata al suo balcone. A far parlare gli utenti del web è stato l'outfit scelto per svolgere pulizie, scopa e paletta alla mano, Mara si è mostrata nella versione casalinga, con addosso una vestaglia e uno straccio sul capo. Il marito non ha perso l'occasione di prenderla in giro e Mara, con autoironia, ha scritto, foto a tradimento del mio simpatico marito. Che non fa niente e mi prende in giro. . . . scusatemi che di Instagram ma i vostri mariti vi aiutano. Fanno qualcosa in casa? . . . nostalgia domenicana. . . grazie per aver guardato l'intero video Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.